Presto diventerò... imperatore della Cina. La mia Cleo non si difenderà mai più. Il mio nome rimarrà per sempre inciso nel marmo della storia. Adoro quando dici così. Lo adoro. Come lo dici bene. Perché tutti devono venire a chiedere aiuto a noi? Sono libero al momento? Asterix e Obelix sono tornati. Vi mostro come combattiamo in Cina. A chi io sono innamorato? Ci sono un po' troppe cotte in questa avventura. Ciao, Obelix. Ciao, Falvala. Non mi ami più. Sì, è un sì. Io lo amo. Mi hai sentito? In che senso lo ami? Che vuol dire che lo ami? Carica! Grazie. Dovere. Perché palare quando si può volare? Prova a riprendere la tua moneta, piccolo scarabbeo. Sei cieco. Non dare mai per scontato che un uomo non veda perché è cieco. E questo l'avevi previsto? Ecco qua. Asterix e Obelix. Il regno di mezzo. Dal 2 febbraio al cinema. E questo. Se l'anima di mezzo. Grazie.